Come già sta avvenendo d'intesa con l'Anci in altre città italiane, l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Napoli promuove un'azione volta a sostenere le politiche di welfare a tutela dell'equità e della giustizia sociale sui territori. Nella sala giunta di Palazzo San Giacomo si sono riuniti gli assessori dei comuni capofila degli ambiti territoriali per riflettere su argomenti come la ricostituzione di un fondo unico nazionale per le politiche sociali, i meccanismi di sostegno dei minori a seguito dei provvedimenti del giudice tutelare, la sperimentazione di modelli innovativi di welfare in partnership tra enti pubblici, terzo settore e cittadini ed un piano straordinario nazionale povertà in particolare per le aree metropolitane. Insomma la visione è quella di un investimento nei servizi alla persona ed in welfare inclusivo considerato come scelta obbligata per uscire dalla crisi. Il paradosso è che in una situazione di crisi così drammatica nella quale c'era da attendersi un potenziamento del sistema locale di welfare si sta facendo esattamente al contrario, si sta depotenziando e distruggendo quello che faticosamente si è costruito in questi anni con il rischio di esporre maggiormente le persone, le famiglie più fragili che andranno un incontro a maggiori difficoltà per effetto del loro impoverimento e dell'aumento e della crescita di fenomeni sociali che occorreva prevenire e quindi chiederemo un incontro al Presidente Caldoro per ritornare a discutere della sospensione del Decreto 77 con il quale la Regione chiede ai Comuni di compartecipare alla spesa sociosanitaria e soprattutto chiediamo alla Regione Campania urgentemente un tavolo per ritornare ad investire seriamente sul welfare municipale.